buongiorno miei carissimi ragazzi della seconda di riprendiamo le nostre lezioni di grammatica va bene siamo arrivati all'ultimo argomento della morfologia cioè dello studio della forma delle parole in realtà ci sarebbe da fare ancora l'interiezione secondo il libro ma noi l'interiezione insieme alle onomatope le abbiamo fatte qualche mese fa in una circostanza particolare comunque vi ricorderete che già le interiezioni le abbiamo fatte andiamo alle congiunzioni ed è bello questo perché così finalmente concludiamo la morfologia e finalmente possiamo passare alla sintassi vi dico subito che la lezione che adesso ci apprestiamo a fare sarà da un lato easy da un lato light da un lato easy poiché facile quindi poiché l'argomento in sé è obiettivamente facile light perché non ho intenzione di sbolognarvi tutto quello che c'è da dire sulla congiunzione in questa singola lezione ma ho intenzione di suddividervelo in due parti questo per qualche ragione una ragione è quella che darvi troppe nozioni tutte insieme secondo me contribuirebbe a farvi confondere appesantirvi inutilmente seconda riflessione perché in verità io sono abituato le congiunzioni a farle molto velocemente perché poi mi piace riprenderle in maniera più significativa tale da rimanere a mio avviso più impressa nella mente quando si affrontano alcuni aspetti della sintassi per esempio quando si parla di coordinazione di subordinazione cose che forse in questo momento vi possono sembrare del tutto astruse ma che insomma impareremo bene e vi dico semplicemente che le raggiunzioni si suddividono in coordinanti e subordinanti quindi capite che se nella sintassi parliamo di proposizioni cioè di frasi coordinate di proposizioni cioè di frasi subordinate allora qualche attinenza effettivamente ci deve essere no nel frattempo prendete nel libro al solito libro di grammatica datti un'altra regola prendete pagina 424 424 e mi dovete fare la cortesia però di non seguire con gli occhi quanto io adesso vi leggerò ascoltatevi la civiltà minoica era decisamente marittima commerciale la civiltà che era prevalentemente basata sull'agricoltura la pastorizia nella società a chea il re disponeva di un grande potere dalle sue decisioni dipendeva la vita politica economica e sociale del suo popolo il popolo era formato da contadini artigiani che fossero liberi pagavano tributi al re non possedevano ricchezza terra propria rileggiamolo con le congiunzioni sempre io voi ascoltate soltanto se la civiltà minoica era decisamente marittima e commerciale la civiltà chea invece era prevalentemente basata sull'agricoltura e la pastorizia nella società chea il re disponeva di un grande potere dalle sue decisioni infatti dipendeva la vita politica economica e sociale del suo popolo il popolo era formato da contadini e artigiani che sebbene fossero liberi pagavano tributi al re e non possedevano né ricchezza né terra propria cambiato vero che è cambiato tutta un'altra cosa tonia è vero no che è cambiato sorridi per favore che sai che quando sorridi io sono contento non stare sempre seria rileggo rileggo di nuovo senza le preposizioni voi ascoltate la civiltà minoica era decisamente marittima commerciale la civiltà chea era prevalentemente basata sull'agricoltura alla pastorizia nella società chea il re disponeva di un grande potere dalle sue decisioni dipendeva la vita politica economica e sociale del suo popolo mi è scappata una congiunzione il popolo era formato da contadini artigiani che fossero liberi pagavano tributi al re non possedevano ricchezza terra propria come vedete come vedete non ci siamo allora che sono queste congiunzioni prendiamo facciamo degli altri degli altri esempi massimo giorgio stanno giocando a pallone tutti si fidano di lui è un uomo onesto come vedete cambia completamente allora cos'è la congiunzione la congiunzione è chiaramente questo lo sappiamo una parte invariabile del discorso già questo è fondamentale che voi lo diciate una parte invariabile del discorso che serve a unire congiungere tra loro due parole all'interno di una frase oppure due frasi da questo momento in poi dobbiamo imparare dobbiamo imparare a sostituire la parola proposizione da non confondere con preposizione diada in con su per tra fra proposizione non preposizione dobbiamo imparare a sostituire la parola proposizione con alla parola frase ok perché in sintassi si preferisce parlare di proposizione pertanto ripetiamo un poco questa definizione che abbiamo dato di congiunzione è una parola che viene dal verbo latino coniungere che significa unire congiungere bene allora ricapitolando la congiunzione quindi non utilizziamo frase ma utilizziamo al posto di frase proposizione diciamo che la proposizione scusate la congiunzione è una parte invariabile perché non può cambiare non ha desinenza che cambia del discorso è una parte invariabile del discorso che serve per congiungere due parole all'interno di una proposizione oppure due proposizioni e bene che tipo di parole unisce che tipo di parole unisce noi ci siamo resi conto che nel nel testo che vi ho letto poco fa nel piccolo brano che vi ho letto poco fa quelle parti invariabili del discorso quelle congiunzioni che io avevo messo facevano saltare un poco i rapporti logici tra le parole esempio prendiamo l'ultima frase stavolta la potete guardare il popolo l'ultima frase il popolo era formato da contadini artigiani che fossero liberi pagavano tributi al re non possedevano ricchezza terra propria prima di approfondire il discorso vediamo di fare un po di laboratorio intanto stiamo attenti che forma può assumere la congiunzione la congiunzione può assumere tre forme al solito la congiunzione semplice la congiunzione composta è la locuzione congiuntiva ormai sta locuzione abbiamo visto le locuzioni preposizionali le locuzioni avverbiari adesso vediamo anche le locuzioni interiettive ci sono adesso vediamo la locuzione congiuntiva intanto le proposizioni semplici quali sono le preposizioni semplici le preposizioni semplici una cosa di una semplicità assoluta sono quelle preposizioni che sono quelle preposizioni che non sono composte che non sono cioè composite che sono per l'appunto semplici che sono singole cioè le preposizioni scusatemi le congiunzioni semplici sono le congiunzioni formate da una sola parola per esempio è ho anche ne se ma quindi come quando però come invece le congiunzioni composte sono quelle parole che sono formate da due o più parole for example io posso dire vuoi il gelato o il panino o è una congiunzione semplice vuoi il gelato oppure il panino oppure viene da oppure tutti si fidano di lui perché un uomo onesto viene da per più che va bene se bene se più bene e infine ci sono le locuzioni congiuntive cioè quelle eh parole mentre la pro la congiunzione composta è formata da due o più parole ma fra di loro unite noi non scriviamo oppure scriviamo oppure tutto unito con due p eh non scriviamo eh se bene non scriviamo se bene ma scriviamo se bene con due b tutto unito ci siamo in vero non scriviamo in vero cioè scriviamo in vero tutto unito ma non scriviamo in è vero le locuzioni congiuntive invece eh sono formate da due o più parole che rimangono fra loro staccate per esempio ti voglio bene anche se ti sei comportato male ti voglio bene benché tu ti sia comportato male benché è unita e composta ehm ehm ti voglio bene anche se ti sei comportato male anche se è scritto staccato va bene adesso leggiamo la leggiamo la lezione ve la leggo io per forza e vediamo un poco che cos'è la congiunzione Massimo e Giorgio stanno giocando a pallone tutti si fidano di lui perché è un uomo onesto in queste frasi le parole evidenziate sono congiunzioni la parola è congiunge due nomi Massimo e Giorgio di una stessa proposizione la parola perché è congiunge due proposizioni che sono tutti si fidano di lui ed è e poi è un uomo onesto riquadro verde diremo dunque che la congiunzione dal latino coniungere, congiungere, unire insieme è quella parte invariabile del discorso che serve a congiungere tra loro in modo logico due parole di una stessa proposizione o due proposizioni allora prima cosa sul box verde scrivete imparare all'interno del box verde fine della seconda riga, inizio della terza riga dove dice in modo logico in modo logico cancellate in cancellate modo cancellate logico continuiamo la lettura le congiunzioni sono molto importanti perché stabilendo dei legami logici cancellate logici lo rende più difficile, l'importante è che capiate come funziona tra le parole o le preposizioni proposizioni rendono comprensibile un testo in quanto costruito secondo un filo logico come tu stesso puoi notare leggendo il brano che segue nel quale abbiamo evidenziato tutte le congiunzioni l'abbiamo letto 30 volte, non c'è bisogno che lo rileggiamo andiamo alla pagina 425 la forma della congiunzione per quanto riguarda la forma le congiunzioni si distinguono in congiunzioni semplici sono costituite da una sola parola eh, sottolineare questo sono costituite da una sola parola esempi e, o, ma, ne, se, quindi, anche, però, come, quando congiunzioni composte sono costituite da una sola parola che però risulta dalla fusione di una o più parole per esempio, oppure viene da o più pure perché da per più che sebbene da se più bene infatti da in più fatti affinché da al più fin più che non di meno da non più di più meno nonostante da non più ostante nell'italiano del 1500 c'erano anche espressioni come congiunzioni come impercio che oppure tutto scritto unito con ciò sia cosa che comincia così, per esempio il cortegiano di Baldassar Castiglione con un libro che ha fatto epoca anche se per noi di lettura molto farraginosa molto pesante con ciò sia cosa che ed era proprio una congiunzione infine locuzioni congiuntive sono costituite da due o più parole distinte for example in chiswaili qua sababu anche se dopo che tranne che dal momento che ogni volta che sono tutte staccate anche se dopo che tranne che dal momento che ogni volta che questo punto stoppate il video vi prendete ma si un minuto e trenta secondi per fare solo l'esercizio uno quindi stoppate e riaccendete fra un minuto e mezzo dopo che avrete finito l'esercizio bene adesso possiamo correggere esercizio numero uno non mi può aiutare mio figlio perché sta guardando sul proiettore a muro visto che non abbiamo la televisione per scelta dal computer dei cartoni quindi non lo disturbo anche perché fra poco devo andare a fare nanna allora nelle seguenti come l'altra volta ci aiutavo lui leggeva era un po' per stemperare un poco però dai vi faccio lo stacchetto musicale quindi dai nelle seguenti frasi abbiamo evidenziato tutte le congiunzioni sottolinea in rosso le congiunzioni che congiungono due parole in blu quelle che congiungono due proposizioni cioè due frasi one le mie più care amiche sono Irene e Nadia qui andava sottolineato in rosso ce la è andava sottolineato in rosso perché unisce due parole della stessa natura peraltro ok due nomi due sbrigati perché il tempo passa questo perché andava sottolineato in blu perché unisce sbrigati che da solo come verbo è una proposizione e il tempo passa tre mi ha spiegato come ha risolto il problema qui come andava sottolineato in blu perché unisce due proposizioni mi ha spiegato e poi ha risolto il problema quattro partiremo dopo domani cioè mercoledì ok qui cioè andava collegato in rosso perché unisce dopo domani e mercoledì due parole cinque verrò con te benché tu non ne abbia voglia benché tu non voglia questo benché andava sottolineato in blu perché unisce due proposizioni verrò con te e tu non voglia sei ti preparo un tè o un caffè qui o andava segnato in rosso perché unisce i due nomi un tè e un caffè sette sono stanca perciò vado a dormire questo perciò va in blu perché unisce sono stanca e vado a dormire otto cioè due proposizioni otto marcella e gentile anzi gentilissima questo anzi va in rosso perché unisce due nomi scusatemi due parole in questo caso due aggettivi gentile gentilissima nove sei ancora qui mentre dovresti essere già a scuola mentre va segnato in blu mentre va segnato in blu perché unisce congiunge due proposizioni una che sei ancora qui e l'altra che dovresti essere già a scuola benissimo ragazzi a questo punto siamo quasi al termine no probabilmente proprio al termine siamo un po' più della metà della nostra lezione di grammatica che ho deciso deve essere easy ok light ma per un discorso proprio di apprendimento di facilità dell'apprendimento secondo me è meglio così e andate a pagina 426 la funzione della congiunzione la congiunzione può essere coordinante oppure subordinante che vuol dire coordinante che vuol dire subordinante subordinante per il momento ce ne freghiamo e lasciamo solo coordinante coordinare coordinare ordinare mettere in ordine co da cum cum ordino ordinare ordinare insieme cioè sullo stesso piano ok ci siamo eh mmm se io dico mi piace andare al cinema e nuotare in piscina sono due proposizioni perfettamente uguali mi seguite? ma se io dico ti voglio bene perché sei la mia mamma io non posso io posso dire ti voglio bene ma posso dire perché sei la mia mamma e non posso dire sei la mia mamma perché ti voglio bene ti voglio bene perché sei la mia mamma ma non sei la mia mamma perché ti voglio bene sei la mia mamma perché sei la mia mamma allora vedete che la congiunzione perché non crea un rapporto sullo stesso piano ti voglio bene perché sei la mia mamma io non posso dire da solo perché sei la mia mamma che non avrebbe senso ti voglio bene può stare da solo perché sei la mia mamma no ti voglio bene perché sei la mia mamma ti voglio bene è il motivo è la frase principale di cui perché sei la mia mamma è la causa non può essere il contrario la causa non può essere che tu sei la mia mamma perché io ti voglio bene quindi non c'è un rapporto paritario ma ti voglio bene perché tu sei la mia mamma questa proposizione qui è sotto questa questa è fondamentale può stare infatti anche da sola ti voglio bene questa perché sei la mia mamma da sola non può stare voglio andare al mare o fare una nuotata in piscina voglio andare al mare o voglio fare una nuotata in piscina posso dire da solo voglio andare al mare sì posso dire voglio fare una nuotata in piscina sì tutte e due le proposizioni possono stare da sole quindi stanno sullo stesso piano ok ci sono quindi delle congiunzioni che permettono di congiungere unire due parole o due proposizioni sullo stesso piano altre alla fine ve l'ho spiegato altre congiunzioni invece sono subordinanti sub il latino vuol dire sotto cioè mettono sotto ordine una sopra e una sotto quella che dipende da questa in questo caso ti voglio bene perché sei la mia mamma perché sei la mia mamma dipendeva da questa da perché ti voglio bene perché non posso dire ti voglio bene perché sei la mia mamma no scusa non posso dire sei la mia mamma perché ti voglio bene scusate mi ero annebbiato sei la mia mamma perché ti voglio bene posso dire ti voglio bene perché sei la mia mamma una è principale è una proposizione che può stare da sola, l'altra invece non può stare da sola. E la congiunzione è subordinante, cioè permette a quell'altra proposizione di stare sotto. Intanto noi dedichiamoci solo ed esclusivamente in questo momento alle congiunzioni coordinanti. Prendiamo il primo esempio che ci pone il libro. Si è più simpatico Marco o Luca? Come vedete, questa congiunzione semplice O congiunge due parole della stessa natura. Della stessa natura significa in questo caso che sono pronomi, sono aggettivi, sono verbi, sono nomi. In questo caso sono due nomi, cioè due sostantivi. Sono della stessa natura. Io non posso dire ti è più simpatico Marco o bello. Non ha senso, ma posso dire ti è più simpatico Marco o Luca. Così ancora scendiamo giù. Simone è bella, ma antipatica. Io posso dire, Simone è bella, così come posso dire Simone è antipatica. Ci siamo? Anche qui è coordinante, mette insieme due parole della stessa natura. Qual è la natura di bella e antipatica? Sono sostantivi, cioè nomi? Sono pronomi? No. Sono verbi? No. Sono avverbi? No. Sono aggettivi? Sì. Bella e antipatica. Ci ho scritto, però tu non hai risposto. Questo però è coordinante. Io posso dire, ti ho scritto. Posso dire anche, semplicemente, tu non hai risposto. Ok? Va bene. Le congiunzioni coordinanti si suddividono in sei gruppi. E qua, per favore, non pensate di buttarvi dal balcone, non pensate di fare cose strane, non vi preoccupate, perché è chiaro che le dovete studiare, però non vi preoccupate, perché tanto le rivedremo in sintassi, quindi fatelo anche con una certa leggerezza. State abbastanza tranquilli su questo, perché mi rendo conto che sono antipatiche. Va bene? Però avremo modo di rivederle man mano che faremo i vari tipi di proposizione. Ok? Quindi le rivedremo di volta in volta. Allora, le proposizioni coordinanti si suddividono in copulative, disgiuntive, avversative, dichiarative, dette anche esplicative, conclusive e correlative. Va bene? Quali sono quelle copulative? Quelle copulative sono quelle che congiungono, uniscono due parole o due proposizioni semplicemente mettendole una vicino all'altra. Quindi, per esempio, è, anche, pure, inoltre, altresì, possono essere queste congiunzioni copulative, sia affermative come quelle che vi ho appena detto, è, anche, pure, inoltre, altresì, bla bla bla, possono essere anche negative, né, neanche, no, né, milanese, né, no, né, neanche, neppure, nemmeno, esempi. Ho fame e sete, questa è una congiunzione copulativa, coordinante, invece, non vuole cantare né danzare. In questo caso non è una congiunzione. coordinante, copulativa, negativa, right? Andiamo alle disgiuntive. Se le copulative copulano, cioè uniscono, le congiunzioni disgiuntive sono delle congiunzioni che congiungono disgiungendo, sembra un gioco di parola. Vuoi il latte o il caffè? non unisce, separa, o l'uno o l'altro, ci siamo. Quindi pongono quelle disgiuntive una alternativa, for example, o, oppure, ovvero, altrimenti, partirò oggi o domani, esci, oppure rimani a casa, per dire. Congiunzioni avversative, eh? Congiunzioni avversative. Le congiunzioni avversative uniscono, congiungono due parole o due proposizioni, così come le copulative, così come disgiungono invece le disgiuntive, congiungono le avversative due parole o due proposizioni, ma le mettono in difficoltà tra loro, scusatemi, in contrasto tra loro, ok? Per esempio, è freddo quell'oggetto, è freddo, ma piacevole. c'è un tipo di dolce, di dolcetto a trapani, che si chiama brutti ma buoni, sono dei dolcetti brutti, brutti da guardare, ma che sono una bontà pazzesca, brutti ma buoni. quel signore è generoso, ma antipatico, ok? Va bene, ci siamo capiti. Quindi, vabbè. Poi abbiamo le congiunzioni dichiarative, dette anche esplicative. Esplicative viene dal latino explico, dichiarativo viene dal latino declaro. Declaro vuol dire chiarifico, explico vuol dire apro il plico, cioè spiego il plico, quindi spiego. Allora, le congiunzioni coordinanti dichiarative chiariscono, se le chiamiamo esplicative significa che spiegano. Congiunzioni, coordinanti, dichiarativo e esplicative è la stessa identica cosa. La più famosa di tutte qual è? Cioè. Alfredo, cioè tuo cugino, mi ha offeso. Alfredo, quello che è tuo cugino, non quello che passava. Ci siamo. Ci sono anche le conclusive, che congiungono due parole o due preposizioni, due parole o due proposizioni, ma la seconda parola o la seconda proposizione costituisce la logica conclusione o conseguenza della prima parola o della prima proposizione. Per esempio, mi hai veramente infastidito, quindi stai zitto. direbbe qualche compagno, scusatevi, qualche compagno a qualche altro compagno di banco o qualche compagna a qualche altra compagna o compagno di banco, no? Mi hai proprio infastidito, quindi stai zitto. La conseguenza è che devi stare zitto. ci siamo. Non hai studiato, quindi perciò hai preso quattro. È la logica conclusione. Va bene? E infine le correlative, che possono sembrare le più difficili, invece non lo sono. Le correlative uniscono due parole o due preposizioni, creando una specie di corrispondenza fra di loro. Per esempio, non mi piace né questo né quello. Voglio sia questo sia quello. Mi piace sia la matematica che la geografia. Sei tanto onesto quanto simpatico. Va bene? Bene, a questo punto leggiamo la lezione. Prendiamo pagina 426 e leggiamo insieme. La funzione della congiunzione. Per quanto riguarda la funzione che svolgono, cioè in base al tipo di rapporto che stabiliscono tra le parole o le proposizioni, le congiunzioni si distinguono in congiunzioni coordinanti, con le quali noi stiamo concludendo la nostra lezione di oggi, e congiunzioni subordinanti. Congiunzioni coordinanti. Considera le seguenti frasi. Ti è più simpatico Marco o Luca? Come vedete, Marco e Luca, congiunzione coordinante, la O. Congiunge due parole di uguale natura all'interno di una stessa proposizione. Simone è bella ma antipatica. Unisce bella e antipatica, che sono due aggettivi, congiunzione coordinante. Ma. Congiunge due parole di uguale natura all'interno di una stessa proposizione. Va bene? Ti ho scritto, però tu non hai risposto. Ti ho scritto, però, è una congiunzione coordinante che unisce due proposizioni, che qua vi dice proposizione principale, però non ve l'ho ancora bene spiegato, quando faremo sintassi ve lo spiegherò. Congiunge due proposizioni del medesimo tipo. Leggiamo la definizione che dà il libro. Le congiunzioni coordinanti congiungono due parole di una stessa proposizione, oppure due proposizioni, stabilendo tra loro un rapporto di parità. Per esempio, un nome con un altro nome, un aggettivo con un altro aggettivo, una proposizione principale con una proposizione principale, un avverbio con un avverbio, ponendo, cioè, i due elementi coordinati, cioè, sullo stesso piano. Scrivete, imparare. Continuiamo la lettura. Coordinare, infatti, significa ordinare insieme, mettere sullo stesso piano. Sottolineate tutta questa proposizione. Coordinare, infatti, significa ordinare insieme, mettere sullo stesso piano. Andiamo a pagina 426. E vediamo. Le congiunzioni coordinanti possono essere copulative, copulative, congiungono due parole o due proposizioni, semplicemente accostandole l'una all'altra. si distinguono in affermative e negative. Affermative come è, anche, pure, inoltre, altresì, esempio, ho fame e sede. Negative, né, neanche, neppure, nemmeno, non vuole cantare né danzare. Adesso leggiamo il riquadro verde. Attenzione, la congiunzione è, diventa ed per ragioni di eufonia, buon suono, eu vuol dire buon, cacofonia è il contrario, cattivo suono, eufonia è più difficile da ricordare, cacofonia, per ovvi motivi, anche se non c'entrò niente perché è una parola greca, si ricorda più facilmente. Diventa ed per ragioni di eufonia, buon suono, davanti a parole che iniziano con la vocale E. Paolo è una ragazza carina e educata. Paolo è una ragazza carina ed educata, va bene? Nelle numerazioni si colloca solo davanti all'ultimo elemento della serie. Mi piacciono le rose, i tulipani, le margherite e i gigli. Può avere anche valore avversativo con il significato di invece, ma avevi promesso di studiare e invece è hai giocato tutto il giorno, invece hai giocato tutto il giorno, ma hai giocato tutto il giorno, può anche trovarsi all'inizio di una proposizione con valore rafforzativo, con valore di esortazione. E lui che cosa ha risposto? E stai un po' zitto per favore. Allora, tutto questo riquadro in verde, no. Va bene? Questa è una cosa che si imparano leggendo e scrivendo, ok? Andiamo alle disgiuntive. Congiungono due parole o due proposizioni, escludendone una o mettendole in alternativa. O, oppure, ovvero, altrimenti. Partirò oggi o domani. Esci, oppure rimani a casa. Leggiamo. Attenzione! La congiunzione o può avere anche valore aggiuntivo, con il significato di detto anche. Il pronome o sostituente, sottinteso, o detto anche sostituente, è quella parte variabile del discorso, che è bla bla bla. Può avere anche valore esplicativo, dichiarativo, con il significato di cioè o sia. Parleremo ora della geologia, o cioè scienza che studi. Tutta questa parte in verde di attenzione no. Andiamo alle avversative. Va bene? Leggiamo. Congiungono due parole o due proposizioni, mettendole in contrapposizione tra loro. Ma, invece, però, tuttavia, anzi, bensì, eppure. E' una signora gentile ma noiosa. Il professore è severo, però è amato da tutti gli alunni. Leggiamo. Attenzione! La congiunzione ma. Se congiunge due proposizioni, è sempre preceduta dalla virgola. Ha studiato, ma non ha superato l'esame. Se congiunge due parole di una stessa proposizione, di solito non è preceduta dalla virgola. Questa minestra è buona ma salata. Le congiunzioni ma, però, ma, invece, ma, tuttavia, non vanno usate insieme, accostate, perché, trattandosi di congiunzioni avversative di valore pressoché uguale, sarebbe una ripetizione inutile. Ti parlo, ma però tu non mi ascolti. No, si dice, ti parlo, ma tu non mi ascolti. Tu, no, te. Te è piemontese. Tu è italiano. Ok? Sembra, è un regionalismo, te. Sembra sicuro di sé, ma invece è timido. No, sembra sicuro di sé, invece è timido. Ho la febbre, ma tuttavia esco. La febbre, tuttavia esco. Vi preoccupate che queste cose le riprenderemo più avanti. La congiunzione, anzi, in alcuni casi, può avere valore rafforzativo. Si è dimostrato onesto, anzi onestissimo. Bene, tutta questa parte in verde, no. E andiamo finalmente alla conclusione. So che vi state annoiando pure io a questo punto, dire la verità. Dai che finiamo. Dichiarative o esplicative. Congiungono, congiunzioni si sottintende, congiunzioni coordinate, dichiarative o esplicative. Congiungono due parole o due proposizioni, introducendo una precitazione o una spiegazione di quanto si è già detto. Cioè, infatti, difatti, ossia, vale a dire, vale a dire ovviamente una locuzione congiuntiva. Alfredo, cioè tuo cugino, mi ha offeso. È un ragazzo intelligente, ossia, cioè, quindi, difatti, se no quindi, difatti, capisce tutto al volo. Congiunzioni coordinanti conclusive. Congiungono due parole o due proposizioni, la seconda delle quali esprime la logica conclusione o conseguenza della prima. Dunque, quindi, perciò, pertanto, allora. Mi hai tradito, quindi vattene. Conosco bene quel dottore, perciò te lo consiglio. Infine, correlative. Congiungono due parole o due proposizioni, mettendole in corrispondenza tra loro. È, è, o, o, sia, sia, ne, ne, tanto, quanto, non solo, ma anche, ho la borso la vita, non solo è arrogante, ma anche è disonesto. Non intendo né sottovalutare la situazione, né ingigantirla. Bene, a questo punto, stoppate nuovamente il video, e avete, io vi darei, un minuto, due minuti, tre minuti, quattro minuti, no, aspetta, scusatemi, no, una festeria ho detto, scusate, vi do tre minuti per fare l'esercizio 1 e l'esercizio 2 di pagina 428. Pagina 428, esercizio 1 ed esercizio 2. Stoppate e fra tre minuti esatti, riaprite. Pagina 428, Ok, stavolta l'ho fatto romantico lo stacchetto. Dai, leggiamo e correggiamo l'esercizio 1. Nelle seguenti frasi individua e sottolinea le congiunzioni coordinanti. 1. A Marco piace sia leggere sia scrivere. Andavano sottolineate sia sia congiunzioni coordinanti correlative. 2. Sei sordo oppure fingi di non sentire. Oppure, andava sottolineato, congiunzione coordinante disgiuntiva. Ti sei ricordato di comprare il latte e l'acqua minerale? Andava sottolineata la congiunzione E. Congiunzione coordinante copulativa. 4. Sara ha un difetto, cioè è superba. Cioè è una congiunzione coordinante dichiarativa, detta anche esplicativa. 5. L'indirizzo era sbagliato, pertanto la lettera è tornata al mittente. Qui andava sottolineato, pertanto, che è una congiunzione coordinante conclusiva. 6. Non ho fame, quindi non mangio. 6. Va sottolineato, quindi, ed è congiunzione coordinante conclusiva anche questa. 7. La mia lavatrice ha molti anni, tuttavia funziona ancora bene. Andava sottolineato tuttavia, ed è una congiunzione coordinante avversativa. Smettila, 8. Smettila, altrimenti mi arrabbio. 7. In questo caso siamo di fronte a una congiunzione coordinante che io definirei anche questa conclusiva. 8. La conclusione è che mi arrabbio. 9. Però può essere considerata anche copulativa, va bene? 10. Andiamo all'esercizio numero 2. Per ciascuna delle seguenti frasi indica se la congiunzione coordinante evidenziata è copulativa, disgiuntiva, avversativa, dichiarativa, conclusiva o correlativa. 1. Pensavo che questo romanzo fosse interessante, invece è noioso, invece avversativa. 2. Federico è un pediatra, ossia un medico specialista delle malattie dei bambini, ossia dichiarativa. 3. Ho finito di studiare, quindi andrò in cortile a giocare, quindi conclusiva. 4. I tuoi amici non solo sono arroganti, ma anche prepotenti, non solo ma anche correlativa. 5. Carlo andrà a Londra, però fra un mese, però avversativa. 6. Non riesco a trovare la mia sciarpa rossa e nemmeno i guanti che mi hai regalato, nemmeno, congiunzione coordinante copulativa, negativa, qua dovevate mettere copulativa. 7. Il fratello di Marta è Lorenzo o Ferruccio? Qui ho è disgiuntiva e infine sono già pronti, dunque partiranno in orario, dunque una congiunzione conclusiva. Benissimo. Ci siamo, ce l'abbiamo fatta. Allora avete da studiare da pagina 424 a pagina 428, come vedete è molto facile e vi rimangono da fare gli esercizi. di pagina 425, numero 2, ma tranquilli trovate tutto sul registro, e di pagina 429, numeri 3, 4, 8, 5 e 7 e anche 6. Ok, va bene, per quando vanno questi compiti? Oggi è, per voi è giovedì, per me è ancora mercoledì, e la prossima grammatica l'abbiamo per lunedì, quindi vanno per lunedì, va bene? Per lunedì, aspettate che vi dico esattamente la data, per lunedì 16. Va bene ragazzi? Mi raccomando che il lunedì 16 finiamo l'argomento, vi lascio un po' di tempo e poi facciamo un'altra verifica su questo. Fra poco arrivano anche da parte mia le vostre convocazioni online e in diretta, va bene ragazzi? Mi raccomando, statevi bene, saluto voi e i vostri genitori.